È davvero un grande piacere essere qui a Torino, in questa location prestigiosa, veramente bella, con le foto della mia mostra, le emozioni dei colori e il ritorno alla vita. Come dice già il titolo della mostra, c'è un impatto emozionale fortissimo in questo tipo di foto che ho fatto e il punto di partenza è stato proprio quello di chiedere a queste donne di volersi mettere in gioco in un momento molto difficile che era proprio quello successivo al periodo lockdown post-covid. Poi durante il lavoro che stavo facendo, che è iniziato all'inizio dell'anno ed è durato quasi otto mesi, è scoppiata la guerra, ci sono state veramente tantissime cose che hanno disturbato la nostra vita di tutti i giorni e la mia esortazione era proprio quella di chiedere, di scegliere un colore con cui essere fotografate e che doveva essere un colore che dava positività, che dava energia, che faceva proprio da boost, come dicono gli inglesi, per potenziare e per dare valore e per aiutarci ad uscire un po' dal grigio della vita di tutti i giorni, di questi momenti così particolari. Ho fatto questo lavoro insieme ad una mia amica pitrice che infatti ha realizzato la parte in bianco e nero della locandina che ha comunque un valore simbolico perché dal bianco e nero e da questa immagine così grigia si torna invece con il passaggio ad un mondo più colorato, più energetico.